Sì mister, buonasera, è corretto dire che questa partita è anche stata decisa da fattori imponderabili? Sì corretto perché questa partita era stata interpretata benissimo dai miei ragazzi in primo tempo fantastico per gioco, per qualità, per intensità, occasioni create e purtroppo è finito 1-1 in primo tempo che non stavano in giro in terra 1-1 però il calcio poi del fatto di questi episodi ne prendiamo atto e così mastichiamo Amaro ma domani pensiamo alla prossima partita Mister buonasera, Antonio Agravella, Assia Genizia Stampe Italia, Diego Grifo, buon Perugia sicuramente il primo tempo e dopo chiaramente gli episodi hanno un po' condizionato, ha girato male stasera la partita ha girato male, ha condizionato tutto, tutto storto compreso l'arbitraggio perché la punizione è vero che stava in errore in nostro posto, non stava in giro in terra la punizione poi dopo tutto il comportamento che ha avuto dopo però non voglio accampare scuse perché l'arbitro per me è stato pessimo però noi abbiamo sbagliato noi la partita quindi prendiamo atto, abbiamo perso e guardiamo la prossima gara. Che cosa è mancato al Perugia? Ma che mancato la fortuna stasera che è mancato, si è fatto un partitone il primo tempo, si è andato in vantaggio, poi ripeto sono stati due episodi che ci hanno girato male, hanno girato contro e la partita poi si è messa, si è incanalata bene per la regina. Quella gestione del risultato sull'1-0 mister? La gestione abbiamo attaccato come mati, chi è che ha gestito? No, non dico il Perugia, ha gestito fino all'1-0 bene la partita. Anche dopo l'1-0 abbiamo continuato ad attaccare, poi c'è stata questa punizione inventata o diciamo errore arbitrale e poi c'è stato l'errore nostro, la partita è cambiata però andate per la rivedere perché io non protesta va. Sì, Domenico Altomonte, videotouring in Reggio Calabria. La gestione del cambio del portiere, magari fa più effetto vedere il cambiare il portiere anziché un giocatore normale? Non era sereno, non era tranquillo, aveva sbagliato, c'era ancora tanto tempo da giocare e secondo me si poteva esporre addirittura anche a situazioni peggiori, quindi aveva già dimostrato nella serena, poi io ripeto, io faccio l'allenatore e se vedo un giocatore che non è tranquillo, non ho detto se sbaglia, ma se non è tranquillo il sereno ho il dovere di fare il mio lavoro, quindi non è che adesso stiamo a piangere perché ho cambiato il portiere, non scherziamo. No, no, la domanda era perché non capita tutti i giorni. Portiere è uno degli 11 giocatori che giocano, se l'allenatore vede che non sta andando bene non cambia, ma deve essere un processo all'allenatore, io non faccio un processo al portiere, adesso facciamo un processo all'allenatore che ha cambiato il portiere. Non era questa la mia intenzione, comunque un giudizio sulla regina? Ma la regina si è trovata una partita che magari non speravo più nemmeno di poter pareggiare, poi chiaro l'hanno vinta e colpa nostra è andata bene, quindi prendiamo atto, ripeto, noi prendiamo atto della nostra serataccia e ci prepariamo alla prossima partita. Ecco, mister, archiviata subito questa partita, bisogna pensare subito al Modena, sicuramente una partita vitale più che fondamentale. Ma sono tutte vitali qui, l'importante però è che noi facciamo le partite che dobbiamo fare come sarà fatta stasera, poi purtroppo stasera ci si è messo questi incidenti di percorso, ripeto, non si meritava di perdere assolutamente, però abbiamo fatto noi questi recenti, insomma, analizziamo quello che è successo, pazienza, guardiamo avanti. Grazie.